di arrivare possibilmente con argomenti al prossimo ma innanzitutto vuol dire che non c'è la sua della pubblicità tecnica non è che devi adesso provare la proposta ma nel fatto non si delibera cioè distingue si riesce, vedete, adesso si sta guardando Grazie. No no. ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.